Fatemi salutare, io lo ringrazio per essere con noi oggi, un altro protagonista di questa vicenda, un protagonista positivo che segue la vicenda di questo bimbo sin dall'inizio. È il sindaco Vincenzo Cuomo, il sindaco di Portici, che io vedo in collegamento. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Quindi posso tornare dal sindaco Cuomo. Allora sindaco, sotto accusa sono finiti anche i servizi sociali e una presunta mancanza di controlli sul territorio. So che voi avete avviato immediatamente tutte le indagini del caso, avete sentito gli operatori. Oggi lei è in grado di ricostruire questa vicenda dall'inizio. Sì, intanto vi saluto e vi ringrazio. Ringrazio in particolare i medici e il personale infermeristico dell'ospedale Santo Bono, che io amo chiamare la fabbrica dei miracoli. Perché già un nostro bambino ha avuto un miracolo quando è stato salvato da questo ospedale. e quindi ci aspettiamo dalla nostra fabbrica dei miracoli, il lendissimo miracolo al quale oramai siamo abituati. La vicenda, insomma io devo rappresentare, gli assenari sociali del nostro comune, così come quelli del comune di Napoli, che hanno congestito una vicenda molto complessa che riguarda questa donna, si sono comportati non bene, benissimo, hanno fatto più del loro dovere, sono andati ben oltre i loro compiti, in una situazione di problematicità ben nota al Tribunale dei Minori, perché tutti questi nuclei di conviventi e di familiari sono attenzionati da una marea di anni, perché insomma rappresentano un numero di minori enormi, distribuiti nelle varie fasi di relazioni di questa donna. Quindi era una vicenda ben nota e ben conosciuta agli organi, diciamo, giurisdizionali, che hanno un compito preciso in ordine alla tutela di questi minori. Tant'è vero, praticamente, che i figli di questa donna, nessuno dei figli di questa donna vive con lei, sono stati tutti quanti, praticamente, assegnati ad altri nuclei familiari, perché evidentemente non era in grado di esercitare la funzione genitoriale, così come hanno riconosciuto organi titolati a fare questo tipo di... Ecco, Sindaco, mi scusi, quando ci siamo sentiti lei mi ha detto esattamente quante case e in quanti anni ha cambiato questa signora. Vuole dircelo? Sì, in effetti i nostri assistenti sociali, i nostri servizi sociali hanno avuto conoscenza di questa vicenda il 15 luglio del 2020 e hanno avuto conoscenza perché i due bambini minori, gli ultimi due figli di questa donna, erano e sono in una casa famiglia a Ciro Marina, in quanto a gennaio scorso, quindi gennaio 2020, a seguito di una furibonda lite tra il compagno di questa donna e questa donna stessa, in questo compagno fu tratto in arresto e questa donna fu trovata a vagare all'interno di questo paesino, diciamo, paese, questa città calabrese, questa cittadina calabrese che è Cariati Marina, fu trovata a vagare insieme a questi due bambini piccolissimi, uno di un anno e mezzo e l'altro di tre anni, in evidente stato confusionale, per questo motivo fu fatto un TSO. Il comune di Napoli, i cui servizi sociali hanno funzionato altrettanto bene, ha cercato di intercettare questa donna negli indirizzi in cui risultava essere residente, non l'ha trovata e da informazioni sommarie assunte attraverso familiari, cioè la madre, ha saputo che era in trasferimento verso la città di Portici. Quando abbiamo cominciato a fare la ricerca anagrafica, abbiamo scoperto che questa donna aveva cambiato residenza più volte nell'ambito, diciamo, della stessa città, Napoli, spostandosi da un quartiere all'altro, ma almeno 5-6 volte. 6 volte, 6 volte in tre anni. Quindi ha messo in atto un vero e proprio piano per sfuggire a quelli che sono i controlli. Per capire chi è e come si è comportata questa donna, però c'è un altro particolare che lei ci ha raccontato, Sindaco, e che è ormai agli atti di questa inchiesta, di questa vicenda che è incredibile. Perché, vi dico solo questo, vi anticipo solo questo, a un certo punto, diciamo, arriva l'autombulanza in casa di questa donna. Arriva il, Sindaco, se non ricordo male, il 12 marzo, giusto? Quindi arriva la prima volta e trova un bambino appena nato in condizioni non ottimali e trova una donna in condizioni altrettanto non ottimali. E cosa accade quando i volontari, quando il 118 arriva in casa e dice signora, venga con noi in ospedale, porti questo bambino neonato in ospedale? Cosa risponde questa donna? Guardi, questa vicenda ovviamente è oggetto di un'attività investigativa e quindi saranno gli investigatori ad accertare realmente che cosa è accaduto. Anche perché il 118 è un servizio che si muove su chiamate registrate, telefoniche registrate, e tutte le volte che intervengono fanno una scheda dell'intervento. Sembrerebbe che l'intervento sia avvenuto alle ore 12.15 del 12 marzo 2021, quindi in prossimità del parto di questa donna. Sembrerebbe che il personale del 118 abbia provveduto a tagliare materialmente il cordone ombelicale, quindi significa che il parto era già avvenuto. Però queste sono, come dire, bisognerà posizionare. Ricostruzioni, certo, ricostruzioni. E sembrerebbe che dalla scheda emerga, dalla scheda del 118, emerga che questa donna abbia rifiutato cure e visite per motivi religiosi. Quindi abbia firmato probabilmente questa scheda rifiutando. Poi tutto è sotto al baglio degli inquirenti perché, insomma... Ecco, vorrei, scusate, vorrei... 10.000 domande su questa agenda, ma le risposte dovranno portare gli inquirenti. Mi collego con il... voglio tornare a collegarmi per un saluto con il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo. Sindaco, anche perché io spero alla città di Portici, spero che spetti ai sanitari, ai medici, al personale dell'ospedale Santo Bono, ma a lei come primo cittadino il compito di trovare un nome che sia, io l'ho detto, diverso da quello che gli hanno dato questi genitori. Vorrei che foste voi, come comune, ad adottare questo bambino in via, ovviamente, virtuale e a proporre ai giudici un nome di battesimo che rappresenti la città, che rappresenti questo tessuto sociale in cui noi gli auguriamo di vivere e di crescere. Sì, intanto mi faccia fare una precisazione perché ho sentito delle cose che sono profondamente inesatte. Il 118, secondo la ricostruzione che stanno facendo gli investigatori, è intervenuto una prima volta il 12 marzo alle 12.15 e i carabinieri e le forze dell'ordine non c'entrano nulla. I carabinieri sono stati chiamati il giorno 16 marzo e recatesi sul posto hanno chiamato loro il 118 per farlo intervenire, visto che le condizioni del bambino erano molto critiche, quindi si sta facendo un po' di confusione. Il 118 che è intervenuto il 12 marzo non solo non ha allertato le forze dell'ordine che quindi non hanno saputo nulla, ma neanche i servizi sociali, benché meno la procura della Repubblica minorile. Quindi io capisco che nella foga di esprimere giudizi si dicono tante cose, però siccome sono cose coperte da un'investigazione abbastanza profonda è bene che precisiamo con chiarezza tutte le cose. Diciamo che in un'ipotesi dai la colpa solo al 118. C'è qualcuno che però dice che di aver visto... Il 118 è andato due volte, una volta il 12 e una volta il 15. Sì, il 118 sì, c'è chi dice che in entrambe le volte c'è la presenza di forze dell'ordine, però questo lo appurerà diciamo la inchiesta. Quando è andato il 12 non c'erano le forze dell'ordine. Quindi possiamo dare questa notizia? Allora diamo una notizia che ad oggi, poi vediamo se sarà smentita, ad oggi non c'è rilevanza, come si dice in termini più o meno tecnico, della presenza di forze dell'ordine con il 118, diciamo, quando è nato questo bambino. Però ciò non toglie tutto quello che abbiamo detto, che il 118 forse avrebbe dovuto chiamare le forze dell'ordine, non l'ha fatto. Questo è corretto, sindaco? Probabilmente avrebbero dovuto chiamare le forze dell'ordine, siccome ha detto il sentito prima di trasmissione, e i servizi sociali. Quindi, eventualmente, o la procura minorile. Se non ce l'avevano, al momento ce l'avevano, gliel'avevano tolta dopo. No, possono toglierla anche prima. Sì, ma nessuno gliel'ha tolta. Io posso attestare che i servizi sociali non sono stati chiamati. Dottoressa Bruzzone? Il problema è la risposta che viene data per rifiutarsi rispetto al ricovero, che comunque evidentemente era già pacifico che fosse necessario, prima o seconda volta, insomma, poco rileva. Il problema è che davanti a uno scenario di evidente criticità, e davanti a una motivazione per il mancato ricovero, per il rifiuto del ricovero, io per motivi religiosi non vengo all'ospedale, non mi lascio prendere il mio figlio, da quell'affermazione non si è derivata un'immediata attivazione di tutto quello che era possibile attivare in tempi celerissimi. Sono assolutamente d'accordo. Questo è il vostro punto di contatto. Sindaco, siccome io devo cambiare spazio, lo dico anche agli altri ospiti, lunedì torniamo a ritrovarci. Però sul nome di questo bimbo è davvero una cosa a cui noi... Sul nome di questo bimbo praticamente noi potremmo suggerire un nome al Tribunale Civile, perché se entro lunedì non ci sarà nessuno dei genitori che farà l'iscrizione all'anagrafe, deciderà il Tribunale Civile, sarà la Procura Minorile, Tribunale dei Migliori, che attiverà le procedure. Suggeriremo un nome, ovviamente le lascio immaginare che i nostri cittadini propendono per il nome del nostro santo patrono, poi vedremo un po' cosa emergerà da questo. Io non mi vergogno mai di confessare la mia ignoranza, Sindaco. Oltre con nome noi ci stiamo preoccupando già di trovare una struttura. Ciro? Dai, Marica dell'Acqua sta tutto. Il nostro santo patrono è Ciro, tra l'altro era un medico molto molto bravo, che faceva miracoli, un guaritore straordinario, quindi... Allora, io saluto tutti i nostri ospiti, ringrazio gli ospiti in collegamento.